Un violento nubifraggio si è abbattuto stamane su Bagnara Calabra. Per più di due ore l'acqua non ha lasciato tregua alla cittadina della Costa Viola, sferzandone l'intero territorio e mettendo a dura prova il sistema idrogeologico e fluviale. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco di Bagnara Calabra e di Reggio Calabria, dell'ANAS, dei Vigili Urbani e dei Carabinieri del Comando Stazione di Bagnara, che con il supporto degli uomini del reparto di Villa San Giovanni hanno garantito la sicurezza nei siti di maggiore rischio. Numerose le frane che hanno interessato le viabilità cittadine a quella extraurbana, bloccate per qualche ora sia la statale 18 a nord del centro abitato sia la provinciale Persolano. Colpiti da fango e detriti, numerosi lidi e un noto locale che si trova in località Caporocchi, nelle vicinanze del porto di Bagnara Calabra. Anche l'acquedotto comunale ha subito danni ed infiltrazioni di fango lungo le sorgive del Gazziano, compromettendo l'erogazione dell'acqua potabile. Già dal mattino la Protezione Civile Regionale aveva lanciato un'allerta meteo sull'intera costa viola, con rischio di notevoli precipitazioni, in particolare su Bagnara e su Scilla. Il maltempo non ha risparmiato la vicina Palmi, con intense precipitazioni che hanno causato considerevoli problemi all'acquedotto San Vito. Ruspe in azione già dal primo pomeriggio e numerose strade resi accessibili al traffico veicolare, grazie all'intervento tempestivo dell'ANES e di alcune imprese locali. Adesso si contano i danni e si lascia spazio, come sempre, alle polemiche. La domanda sorge spontanea. Bastano un paio di ore di pioggia, pursi identità straordinaria, per mandare in tilt un'intera cittadina. A pagare il prezzo maggiore alcune attività imprenditoriali, privati cittadini e un Paese che, tra i suoi tanti problemi, adesso deve aggiungere anche questo.